Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Passiamo sulla 12 dove a causa di lavori si registrano code tra il raccordo Lucca Viareggio e l'allacciamento con la 11 in direzione Livorno. Rimaniamo in A12 dove a causa del traffico intenso si segnalano code alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. In A15 invece a causa di lavori code tra Ull e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostiamoci quindi in Fipili dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!